odi, American Bar, affaro già la d'Arda, in questo caso non c'è Aristoni ma c'è la figlia d'Alessandra Mariani, Artico a Milano, sempre Milano-Ciacco, Lornomo gelato, ancora Milano Pave, Gelati e Granite Terra, Gelato Passiamo a Moglia con Shantilly L'Albero dei Gelati a Monza Sir Oliver a 9.000 dovrebbe essere con Calma con Calma Pallini a Seregno e Verolatta Vigevano ci dovrebbe essere Massimiliano Scotti con Laurierde Iesus la sua collaboratrice Questa è la ricione più numerosa quindi complimenti davvero volete dire qualcosa? allora innanzitutto vi chiedo di passarmi se nel frattempo volete dire qualcosa io vi passo lo spero da un applauso alla Lombardia così potremmo continuare a questo momento con i tempi buoni giusto complimenti a tutti complimenti a tutti grazie quanti ne mancano volete dire qualcosa? non volete dire nulla? no passiamo il microfono dai allora ad Antonella vuole parlare a Antonella? ho detto che mettiamo il microfono a lui perché l'anno scorso gliel'ho tolto dalle mani perché era la prima volta che riceve i tre coni quindi per me però oggi è una riconferma orgogliosa come loro forse più di allora un po' claudicante ma dovevo esserci grazie ancora grazie a voi grazie a voi siamo estremamente orgogliosi di essere qua oggi otto anni che prendiamo i tre coni per noi è veramente un onore ed è sempre più una sfida per poterci portare sempre più avanti perché riceverlo per così tanti anni non deve essere un punto di arrivo ma un comicio un modo per ricominciare ogni anno a dare sempre di più quindi grazie e passo la parola ad Alberto tutti verità noi siamo compaesani e quindi vediamo la passione per investire ora vicino un po' il microfono scusate vediamo la passione per investire che sono da tanti anni e la ricerca spasmodica delle materie prime e la qualità anche come funziona più possibile e orgogliosi e felici di essere qua e un'ora a tutti grazie mille per tutto grazie mille a voi per tutto un lavoro che fate ogni giorno quotidianamente qualcuno vuol dire qualcosa? io volevo dire che i tre colline di Andoros sono dedicati ai miei dipendenti ai miei colleghi e ai miei collaboratori che non chiamo dipendenti al mio gruppo quindi a rappresentarli c'è la mia grazie a te grazie allora una bella foto mi riesco a stringere un pochettino così tempo avanti ma ce la facciamo o dobbiamo fare squadra di faccio? puoi fare il centro? e voilà la Lombardia grazie mille a tutti